Dal 1 marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022-febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di assegno unico e universale per i figli a carico accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell'Inps, senza l'onere di presentare una nuova domanda. E quanto fanno sapere dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale? Potranno invece presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell'assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso un'istanza che non è stata accolta o non è più attiva. Si tratta di una misura di semplificazione per l'utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto per rendere alla cittadinanza un servizio innovativo. I dati dell'istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell'Istituto che procederà a liquidare la prestazione in continuità. Dall'Inps aggiungono che eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa a Inps prima del 28 febbraio 2023, a titolo d'esempio nascita di figli, variazione, inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli e altro, dovranno essere comunicate dai richiedenti integrando tempestivamente la domanda già trasmessa. Le domande possono essere inviate tramite le consuete modalità. Portale web dell'Istituto, previo accreditamento con Speed, carta d'identità elettronica, carta nazionale dei servizi, contact center, integrato, servizi offerti dagli istituti di patronato, app mobile e Inps. Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione, non va dimenticato che per le domande presentate entro il 30 giugno del 2023, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Per la quantificazione dell'assegno permane, per tutti i beneficiari, l'onere di procedere alla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta dell'Isee per l'anno 2023. In assenza di una nuova DSU correttamente attestata, l'importo dell'assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023, con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare numero 132 del 15 dicembre 2022, pubblicata sul portale internet dell'Inps.